Come intervento? Dato che ha cambiato idea Raffaello Lombardo, gli ho detto in faccia, gli ho dato il dischio. No, completamente, quando è venuto al Comune in tre giorni, quando convocato il Consiglio Comunale come una sede, no, prima ha cambiato idea per far alzare il prezzo, non so che prezzo è, però è venuto, prima lui ha avuto il bonzo, paghiamo tutti gli articoli da Comunicanti Stati, se lo volete, non li do che glielo ho dato direttamente quando gli altri lo paghiamo a Spodinzo Lauro.